bene benvenuti a tutti a questa nuova lezione cosa andiamo a fare oggi oggi andiamo a fare direi un primo esercizio completo sul sull'accesso al database d'accordo vi ho mandato appunto in chat il link per fare il fork e clone di un progetto base sarà sempre più così vi daremo sempre di più degli scheletri da cui partire perché altrimenti svilupparlo proprio da zero diventa impossibile nel poco tempo che abbiamo a disposizione e poi da qui dallo scheletro si parte per raggiungere la parte che ci interessa in questo caso l'accesso al database che cosa chiede questo questo programma io ce l'ho già importato nel mio eclipse vogliamo realizzare un programma che gestisca un elenco di corsi universitari quindi il programma si basa su un database chiamato iscritti corsi che potete trovare nella cartella in una cartella chiamata db proprio all'interno del progetto vedete qua iscritti corsi abbiamo il file sql del del database nella stessa cartella è presente anche il diagramma entità relazioni andiamo a vederlo a vederlo un attimo abbiamo tre semplici tabelle di cui una è utilizzata per mappare la relazione molti a molti che c'è tra studenti e corsi quindi uno studente può essere iscritto a uno o più corsi e viceversa un corso ovviamente può avere uno o più studenti tipicamente più studenti iscritti ogni studente ha una matricola che la chiave primaria un cognome un nome è un cds che è un corso di studi il corso di studi ad esempio il vostro penso per tutti sia ingegneria gestionale il corso anche lui ha un codice univoco identificativo che funge da chiave primaria un numero di crediti un intero il nome e questo campo pd che identifica il periodo didattico è semplicemente un numero uno o due il primo semestre secondo semestre vediamo cosa chiede questo questo esercizio il programma deve permettere all'utente di abbiamo due parti principali probabilmente oggi faremo questa prima parte e il prossimo mercoledì la seconda non credo riusciremo a fare tutto l'esercizio oggi la prima parte chiede di analizzare i corsi sulla base del periodo didattico quindi come primo punto l'utente deve poter digitare il periodo didattico un periodo didattico a sua scelta uno o due e il programma dovrà stampare tutti i corsi di quel relativo periodo didattico punto credo molto facile il secondo invece un po più complicato dovrà il programma dovrà stampare il numero di iscritti ai corsi di un determinato periodo didattico quindi il conteggio di tutti gli studenti che sono iscritti a un corso di uno dei corsi del periodo didattico inserito dall'utente poi avremo la seconda parte che appunto probabilmente vedremo mercoledì prossimo dove andremo ad analizzare i singoli corsi quindi andremo prima di tutto a elencare tutti gli studenti di un determinato corso quindi l'utente potrà inserire il codice di un corso il programma stamperà tutti gli studenti iscritti e viceversa dato il codice di un corso si dovrà poter stampare la divisione degli studenti iscritti tra i vari corsi di studio perché in un corso soprattutto quelli opzionali facoltativi che potete che potete scegliere dalle varie tabelle spesso ci sono studenti che appartengono a corsi di studio diversi possiamo avere dei gestionali come degli informatici eccetera e quindi si vorrà poi stampare questa divisione queste sono le specifiche non so se avete domande ma mi pare abbastanza abbastanza chiaro dicevo abbiamo già uno scheletro del programma vediamo che cosa c'è beh c'è già la divisione che segue il pattern model view controller quella che abbiamo visto le scorse volte quindi l'entry point come vedete già crea il suo modello e lo va ad assegnare dal control al controller il modello è vuoto ovviamente dobbiamo riempirlo e come chiede francesco in chat ci sarà bisogno di una interfaccia grafica sì ovviamente ma c'è già ve l'abbiamo già fornita come accadrà da cui in avanti quasi sempre quindi il file sim builder già contiene l'interfaccia grafica che ci servirà se io vado a lanciare il main voi vedete che sposto di qua c'è già l'interfaccia grafica che per ora non fa niente però è già pronta la parte in cui ci concentreremo oggi è la prima riga qui dove ci sono i due primi punti quindi la stampa dei corsi e la stampa di del numero totale degli studenti iscritti ai corsi di un determinato periodo didattico prossimo mercoledì ci focalizzeremo su questa seconda riga va bene primo passo da fare sempre sia in questo esercizio che in quelli successivi che all'esame importare il database ora il professor corno so che mi ha fatto vedere come si fa su windows sono giunte alcune domande per il mac visto che io il mac oggi tocca a quelli che hanno il mac essere più fortunati perché vedranno il procedimento da attuarsi con i tool che usiamo sul mac ma cambia poco a dire la verità allora innanzitutto mi vado a vedere tra le mie preferenze di sistema io ho installato my sql che mai sql sia running in questo caso è attualmente spento e quindi devo far partire altrimenti avrei delle eccezioni ok ma il sql è partito posso aprire il client che utilizziamo in questo caso su su mac utilizziamo se riesco ad aprirlo sql pro sql pro e non vedo non riesco a scrivere sulla barra di ricerca eccolo qua perché c'è zoom di mezzo ok eccolo qua sql pro mi connetto alla mia istanza mysql che gira su localhost quindi 127.0.0.1 il mio username root la mia password e sono connesso vedete io qua non ho ho già due database ma non quello che mi serve che si chiama iscritti corsi non lo vedo qui quindi cosa posso fare beh posso andarmi ad aprire il file sql desiderato file open e qui devo andarmi a cercare il mio file appunto nel nel mio workspace perché quel file sql è attualmente nel progetto più comodo forse è fare direttamente sul file sql qui dentro ad eclips fare tasto destro open with other e vado a cercarmi external programs perché non è un programma interno ad eclipse vado a cercarmi si quel pro eccolo qua che lo seleziona e faccio ok mi devo riconnettere va bene come vedete ho aperto il mio file sql che contiene le istruzioni per creare il il database all'interno del mio client sequel pro ma non basta aprirlo bisogna anche eseguire queste istruzioni come faccio beh qui sulla destra c'è questo menu drop down dove io posso selezionare run all queries lancia tutte le query che ci sono attualmente nell'area di testo sopra bene e lancio e lui ha già fatto come vedete c'è adesso il database iscritti corsi con le tre tabelle corso iscrizione studente le posso ispezionare ne posso ispezionare la struttura ma anche il contenuto con questo l'unica differenza tra aprire il file così come ho fatto adesso e aprirlo direttamente la sequel pro e che quando lo aprite da sequel pro potete anche fare ad esempio import se fate import di un file non avete più bisogno di fare run all queries perché ve le ranna lui in automatico invece aprendolo solamente così come ho fatto io da eclipse bisogna poi ricordarsi di lanciare effettivamente quelle query che fa il gioco della import diciamo così va bene se non ci sono domande abbiamo ora anche il database sul nostro pc chiara chiede per chi ha edsql quando rannate vi dà degli avvisi questo io non lo so perché non posso provarlo credo possa capitare che dia dei warning ma se sono solo dei warning non ce ne preoccupiamo troppo l'importante è che voi vediate il vostro database con le varie tabelle esatto se sono dei warning possiamo anche tralasciarli ottimo come procediamo adesso in questi esercizi il consiglio che vi do personalmente è sempre quello di provare prima le query su sul client piuttosto che andarla scrivere direttamente nel nostro codice andiamo prima a provarle sul client e poi se funzionano se ci danno il risultato che che vogliamo le riportiamo in eclipse quindi che cosa chiede il primo punto dato un periodo didattico stampare tutti i corsi di quel periodo se andiamo a vedere il nostro diagramma entità relazioni questa query in sostanza è molto semplice perché perché tutte le informazioni che ci servono stanno in un'unica tabella nella tabella corso abbiamo il periodo didattico e dato questo stampiamo tutti i corsi di questo periodo didattico quindi in sostanza non ci serviranno join di nessun tipo quindi questo è già un vantaggio marco chiede mi scusi facendo tasto destro non mi esce adsql intendi da qui ricordati di fare open with ader e poi di selezionare external programs all'external pro program dovresti trovarli altrimenti apri adi e vai ad aprire il file direttamente dai di sql se non lo trovo quindi andiamo un attimo su si quel pro tutte le volte si disconnette vabbè selezioniamo il nostro database scritti corsi ma solo perché ci siamo sconnessi e andiamo a provare a scrivere questa query nella tab nella tab query come già risposto ad alcuni di voi a differenza di edi qua non possiamo avere delle tab multiple per scrivere più query per volta ma abbiamo la query history che ci tiene traccia di tutte le query scritte in passato queste sono query relativi ad altri database che avevo scritto in passato vedete che mia me le ha salvate io se la seleziono lui me la riporta direttamente dentro e se ne voglio scrivere un'altra come dice giorgia in chat devo cancellare tutto va bene diamo un po di zoom questa query è davvero banale perché appunto è una select direi asterisco from corso la tabella andiamo a capo così si capisce meglio where pd uguale 1 o 2 proviamo con l'1 poi ovviamente questa query sarà parametrica quindi in eclipse qui avremo il punto interrogativo ranno e mi da tutti i corsi del primo semestre salvati nel db molto facile non credo ci siano domande su questa su questa query allora torniamo in eclipse io me la copio con manci e vado su eclipse allora qui dobbiamo impostare impostare un po di cose soprattutto impostare il pattern dao abbiamo visto che buona norma crearsi un package apposito qua new package ipolito tdp corsi punto db dove andremo a salvare tutte le nostre classi relative all'accesso al database poi cosa ci serve innanzitutto ci può servire avete visto col professor corno l'utilità di avere una classe separata per ottenere le connessioni in modo tale che se abbiamo più classi dao che devo che devono fare accesso al database possono tutte utilizzare la stessa classe per ottenere una connessione al db quindi tasto destro new class non so come l'abbiate chiamata penso db connect ma fa lo stesso può anche chiamarsi in un altro modo questa classe fatemi spostare solo i controlli di zoom questa classe conterrà un unico metodo statico per ottenere delle connessioni al database public static quindi questo metodo ritornerà una connessione get connection get connection dobbiamo importare connection java sql e cosa dovrà contenere questo metodo beh sicuramente la stringa di connessione jdbc quindi la stringa di connessione al nostro db iscritti corsi questa stringa è formata da vari pezzi abbiamo prima il driver quindi jdbc due punti mai sql due punti slash 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 localhost perché il nostro motore mai si questa girando sul nostro computer e non è su un server online slash il nome del database iscritti corsi punto interrogativo e poi abbiamo lo spazio per mettere lo user name user uguale in questo caso root e la password quindi and password uguale la mia segretissima password è root root ok come non in zoom ecco punto e virgola questa stringa ovviamente o ci sarà già nello scheletro che vi daremo nei prossimi esercizi oppure l'andate a copiare dagli esercizi precedenti e cambiate solamente il nome del database retorno driver manager punto get connection jdbc dobbiamo importare qualcosa immagino a no questa questa operazione ovviamente può scatenare un'eccezione va bene la propaghiamo un'eccezione ad esempio può capitare se voi chiedete una connessione ma vi siete dimenticati di rannare my sequel ok va bene questo è tutto quello che fa vedremo poi dei metodi un po più furbi un po più performanti per ottenere delle connessioni per il momento ci basta questo pattern dao poi richiede di crearci delle classi proprio dove andiamo a inserire del codice il codice per accedere al al database allora la regola generale è che non capisco cosa siano queste frecce forse siete c'è qualcuno che sta disegnando va bene la l'idea generale è di avere in linea di principio una classe dao per ogni tabella di interesse che ci serve di cui ci serve estrarre i dati noi ora stiamo facendo il primo punto ci serve estrarre dati dalla tabella corso va bene mi vado a creare una classe corso dao se mai ci servirà estrarre dei dati sugli studenti andrò probabilmente a crearmi una classe studente dao è solo un modo di organizzare il codice però mi sembra un modo logico e furgo ottimo classe corso dao abbiamo letto abbiamo questa query forse ce l'ho ancora in pancia no non ce l'ho ancora la devo andare a ricopiare no ce l'ho ce l'ho loris chiede mi scusi ma non sono già presenti queste classi no al momento non sono presenti le sto creando le sto creando io se non ho fatto se non ho caricato roba sbagliata che potrebbe anche darsi io abbia caricato la soluzione no 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 le sto creando da zero c'era solo il model ditemi se sbaglio ma mi pare sia così allora dicevo string sql uguale abbiamo questa questa query quindi avremo bisogno di un metodo per eseguire questa query e qui dobbiamo ragionare un momento sarà sicuramente un metodo public qui dato un periodo didattico vogliamo dei corsi e quindi dobbiamo ragionare che dati si scambiano il nostro programma e il database se non sbaglio nel vostri esercizi che avete visto fino ad adesso nell'ultima lezione le informazioni che il programma e il database si scambiavano erano molto semplici erano delle stringhe in sostanza se non mi sbaglio le forme di qualcosa non mi ricordo più di cosa ma erano delle stringhe ce la possiamo cavare sempre solo con stringhe numeri eccetera direi di no in questo caso abbiamo bisogno di tutte le informazioni riguardanti i corsi quindi qui entra in gioco un ennesimo pattern di programmazione che vedremo nel dettaglio dal punto di vista teorico un po' più avanti tra qualche settimana io inizio ad accennarvelo ma è molto facile il pattern è pattern ORM Object Relational Mapping serve proprio a definire la struttura dei dati che si scambiano tra il programma e il nostro database concettualmente in questo caso ho bisogno di una serie di corsi quindi mi aspetto che questo metodo mi ritorni una lista di che cosa di oggetti corso quindi io avrò all'interno del mio programma una classe corso che devo ancora creare che mi modellerà tutte le informazioni relative a un corso che sono salvate nel mio database questo pattern è molto semplice ci dice che per ogni tabella che vogliamo modellare nel nostro programma creiamo una classe apposita si chiamano Java Bean che contengono appunto le informazioni di questa tabella vediamo dopo come devono essere modellate queste informazioni quindi tutte le tabelle escluse quelle che modellano una relazione molti a molti hanno la corrispettiva classe in Java quindi nel nostro programma avremo probabilmente la classe corso come abbiamo visto ma anche la classe studente ok torniamo un attimo qui quindi ritornerà una lista di corso diamo un nome a questo metodo chiamiamolo ad esempio get corsi by periodo riceverà qualche parametro direi di sì il periodo che cos'è il periodo è un numero abbiamo detto questo è quello che inserisce l'utente nell'interfaccia grafica e poi il modello lo passerà a questo metodo allora direi che vale la pena prima di implementare questo metodo andare a definirci importo solo list andare a definirci la classe corso ok dove starà questa classe corso direi nel package model perché modella un dato dell'applicazione quindi vado sul package model creo una nuova classe che chiamo corso allora qui andiamo a replicare le informazioni che ci sono per ogni corso allora andiamo a vedere un attimo la tabella corso e soprattutto la sua struttura abbiamo un codins un codice che è una stringa i crediti sono un numero un nome che è di nuovo una stringa e un periodo didattico che è un numero va bene allora io nella mia classe corso che ho perso prevedo un campo privato string codins la convenzione è chiamare i nomi esattamente come le colonne del database un intero private integer crediti una stringa nome e un intero periodo didattico Alessandro chiede va bene usare anche int e anche Giovanni fa la stessa domanda perché integer e non int c'è uno scopo specifico no non c'è uno scopo specifico in questo caso preferisco usare la classe integer perché potrebbe essere utile ad esempio se dovessimo inserire questi dati in una in una mappa in una hash map in un hash set se uso le classi java diciamo così che wrappano int ho già implementati i metodi hash code e equals e tutto funziona bene quindi preferisco in questo caso utilizzare queste classi è vero che in questo caso lo vediamo tra un attimo questi campi integer non rientreranno nell'hash code e nell'equals perché distingueremo i corsi grazie a codings però io per sicurezza preferisco usare integer in questo caso cambia poco potete usare anche che cosa deve avere questa classe quindi i campi privati un costruttore ce lo facciamo generare e comodo direttamente da eclipse tasto destro source generate constructor using fields e gli diamo tutti i campi in modo tale che noi dall'esterno possiamo creare un nuovo corso passandogli tutti i suoi attributi oltre al costruttore questi java beans vengono chiamati così necessitano di getter e setter per ogni campo quindi me li faccio generare anche questi dei clips tasto destro source generate getter and setter di tutti ok generate eccoli qua e poi cosa possiamo ancora prevedere queste sono le informazioni base che servono per creare un java beans posso ancora prevedere di ridefinire i metodi hashcode equals abbiamo detto tutte le volte che creiamo una nostra classe è sempre bene ridefinire hashcode equals perché non si sa mai magari questi oggetti li andremo a mettere in una hash map in un hash set e quindi ridefiniamo per non saperne leggere né scrivere ridefiniamo già hashcode equals sempre il solito metodo source generate hashcode and equals e qui ragioniamo su che cosa ha senso ridefinire hashcode equals in questo caso secondo voi codins che è la primary key come dice Alessandro esatto quando stiamo parlando di classi che modellano dati del database è facilissimo sapere come implementare hashcode equals basta selezionare la chiave primaria perché siamo sicuri grazie alle chiamiamo le regole del database che quella chiave identifica univocamente in questo caso un corso quindi vado a deselezionare tutti i campi che non sono chiave primaria e lascio codins generate possiamo ancora fare qualcosa ma volendo possiamo ridefinire la to string così quando andiamo a stamparli abbiamo la stampa che ci piace a noi quindi sorgente generate to string e qui possiamo stamparli come vogliamo io ora lascio tutti i campi così come me li propone lui ma potete modificare questa stampa a vostro piacimento domande su questa classe corso e sulla necessità che abbiamo di averla faremo poi lo stesso probabilmente per studente che è l'altra tabella di interesse nel nostro database chiara chiede può per favore far rivedere come implementare il metodo equals certamente innanzitutto il metodo equals come abbiamo spiegato credo due lezioni fa se non ve lo ricordate andatevelo a rivedere va sempre a braccetto col metodo hashcode ok c'è proprio questo contratto che se modifico equals devo modificare anche hashcode se implemento uno implemento anche l'altro li cancello entrambi per generarli tasto destro source generate hashcode and equals vedi che già anche clips ce li propone insieme qui il concetto è devo andare a selezionarmi il o i campi che identificano nel mio programma univocamente un corso quando parliamo di tabelle del database è molto facile perché sappiamo che la chiave primaria fa proprio questo mestiere e quindi selezioniamo solo codines Enrico chiede io professore non ho capito cosa ha di diverso una classe java bin da una classe normale ripeto vedrete poi i dettagli teorici tra poche lezioni ma si chiamano java bin perché hanno queste proprietà cioè hanno dei attributi privati un costruttore e i metodi get resetter è un modo di chiamare questo tipo di classe ma non è che sia una classe particolare classi sviluppate così nella terminologia java si chiamano java bin e anche nel pattern object oriented Manuel chiede potrebbe ripetere perché potrebbe essere meglio usare integer e non int uso integer perché come già spiegato due lezioni fa le classi java tipo string o integer hanno già un'implementazione dei metodi hashcode e equals e quindi potrebbe essere utile avere queste classi che wrappano un int di base perché offrono delle funzionalità in più ma non è fondamentale sicuramente ci vorrebbe la classe integer se codings fosse un numero cioè se codings fosse un numero sarebbe bene definirlo integer perché poi noi questi dati li andiamo a inserire magari in una mappa e una chiave int in una mappa non la puoi usare mentre una chiave integer sì ora in questo caso codings è una stringa e quindi funziona così però uso integer per questo motivo perché se mai mi capitasse che crediti fosse la chiave primaria sarebbe meglio avere la classe integer però in questo caso se usate int funziona tutto lo stesso ottimo torniamo al DAO allora questo metodo restituisce una lista di corsi che ora abbiamo creato la vado a importare il pattern di un metodo DAO è sempre più o meno lo stesso cioè abbiamo innanzitutto la stringa SQL la mia query me la vado a ricopiare di là così vi faccio vedere veramente bene il processo io la query ce l'ho qui la copio con command c e la vado a incollare qua dentro c'è un po' di lavoro da fare occhio perché gli errori più comuni sono banali ma vengono proprio da quello che sto per fare adesso cioè sistemare la query copiata dal mio client in Eclipse innanzitutto devo togliere gli slecene ok e poi cosa fondamentale che in cui quasi tutti prima o poi ci cascano sempre lo spazio prima di cambiare riga altrimenti qua è come se corso fosse attaccato a where e ovviamente poi si scatena un'eccezione perché la query non riconosce queste parole quindi sempre lo spazio prima dei doppi apici prima di andare a capo quindi qui e qui per il resto qui non serve più perché la query finisce altra cosa da cambiare ovviamente qui non c'è più uno ma ci sarà un punto interrogativo cioè qui ci andremo a inserire il periodo dato dall'utente anche qui integer int fa lo stesso in questo caso dopo aver definito la stringa mi definisco diciamo così la struttura dati in cui salverò i miei risultati e che poi ritornerò al chiamante quindi una lista di corsi result uguale new array list fa lo stesso importo queste le prime due operazioni preliminari poi abbiamo il resto del codice che va effettivamente ad agire sul database che andrà inserito in un try catch perché le operazioni che andiamo a effettuare sul database possono generare delle sql exception importiamo l'eccezione e qua dentro adesso andiamo a inserire appunto il codice per accedere al database prima cosa da fare mi faccio dare una connessione connection con uguale abbiamo creato la classe apposta db connect punto get connection anche qui dobbiamo importare connection java sql data la connection ci creiamo un prepared statement st ce lo facciamo dare dalla connessione get no prepare statement a cui passiamo la nostra query cosa serve il prepared statement serve per poter creare come dire appunto uno statement della della nostra query e ci dà la possibilità di andare a riempire quel punto interrogativo quindi andiamo a inserire il nostro parametro in quello statement senza dover concatenare la stringa sql perché non si fa questo non si concatena il parametro direttamente alla stringa perché questo porta dei problemi di sicurezza chiamati sql injection damiano chiede professore ha messo gli errori su get connection e me la fa cambiare con get connection senza n no strano deve essere get connection è lo stesso metodo che abbiamo creato noi cioè non è un metodo standard è questo metodo qua magari hai sbagliato a scrivere il metodo nella tua classe di b connect probabilmente questo è il problema avete sbagliato a scrivere questo nome qui perché questo è get connection standard questo è un nome qua potete anche chiamarlo pippo se lo chiamate pippo di qua non avrete get connection ma pippo ok quindi forse questo è il problema ma meglio get connection che pippo ok torniamo sul DAO quindi abbiamo il prepared statement possiamo impostare il parametro st.setint è un intero il periodo che parametro impostiamo beh qua ne abbiamo solo uno quindi all'indice 1 impostiamo il nostro periodo 1 vuol dire il primo parametro che c'è nella query quindi questo qua per forza in questo caso ce n'è solo uno ce ne fossero di più avremo anche una st.setstring di 2 vorrà dire imposto il secondo parametro creo poi il result set rs anzi lo riempio andando ad eseguire la query che ho appena creato st lo statement execute query se non sbaglio devo importare result set va bene ho eseguito la query ho messo il risultato nel result set quello che mi resta da fare è scorrere questo result set riempire la mia lista di corsi e ritornarla al chiamante va bene visto che mi aspetto di avere più di un risultato più di un corso ho bisogno di un ciclo per scorrere questo result set quindi while rs.next cosa faccio per ogni riga mi creo un nuovo corso corso c uguale new corso abbiamo fatto il costruttore apposta quindi vado a passare tutti i campi che ho estratto dal database come faccio gli vado a chiedere al result set rs.getstring qui metto codings il nome della colonna esattamente quello virgola rs.getint la seconda colonna è i crediti sono i crediti virgola rs.getstring nome magari andiamo a capo virgola rs.getstring no getint scusate il periodo didattico che è un numero ok per ogni riga prendo le varie colonna e mi creo un nuovo corso questo corso ora lo vado ad aggiungere a result add c se casomai ottengo un'eccezione beh la propago la propago magari come runtime exception e è successo un qualcosa runtime relativo sql se la vede poi il controllore throw new se non si scatena l'eccezione quindi riesco ad evitare questo blocco catch arriverò qui e ritornerò return resalte la mia lista di corso domanda banale dimentico qualcosa la close ricordarsi di chiudere sempre la connessione volendo posso anche chiudere tutte le altre risorse che utilizzo in questo metodo dipende un po' dalle implementazioni dalle librerie spesso sono la connection punto close libera in automatico queste risorse però per non saperne leggere né scrivere di nuovo posso anche pensare di chiudere il result set e chiudere anche il prepared statement comunque ribadisco che l'operazione importante è questa connection punto close va bene abbiamo il nostro metodo del DAO questo metodo chi lo userà il modello quindi il modello userà questo metodo verrà chiamato dal controllore e a sua volta utilizzerà il metodo del DAO per ritornare i dati al controllore quindi questo modello al suo interno avrà sicuramente un riferimento magari come attributo della classe al DAO corso DAO DAO chiamiamolo anzi corso DAO perché potremmo avere anche il DAO dello studente importiamo questo DAO va creato quindi magari lo posso fare nel costruttore del modello il costruttore del modello quando lancio il programma il modello è creato mi creo anche il mio corso DAO uguale new corso DAO Alessandro dice a me dice di creare la classe runtime exception Lorenzo dice t minuscola esatto hai sbagliato a scrivere hai sbagliato a scrivere runtime exception te la faccio rivedere eccola qua torniamo nel model importiamo corso DAO eh no ho sbagliato il corso DAO tutto maiuscolo e poi avremo anche qui un metodo in sostanza la catena sarà controllore questo metodo metodo del DAO chiamiamolo nello stesso modo che abbiamo chiamato il metodo nel DAO ritornerà anche questa una lista di corsi in questo caso lo chiamiamo anche nello stesso modo getcorsi by periodo getcorsi by periodo parametro integer PD importiamo list cosa fa? semplicemente return corso DAO DAO punto getcorsi by periodo il periodo passato dal controllore quindi molto semplice fa proprio solo da passacarte verso il DAO e ritorna al chiamante chi è il chiamante? il controllore va bene andiamo nel controllore abbiamo già i metodi associati ai vari bottoni quello che ci interessa è questo il metodo del primo bottone prima cosa da fare recuperiamo l'input dell'utente il periodo didattico da dove arriva questo periodo didattico direi da txt periodo sì dovrebbe essere lui importantissimo lo diciamo sempre il controllo dell'input quindi quello che arriva da txt periodo è per forza una stringa txt periodo no scusate string periodo chiamiamolo string stringa uguale txt periodo punto get get text come facciamo a controllare che sia un periodo valido beh allora ci definiamo una variabile integer periodo e poi proviamo a tradurre questo periodo stringa in un intero se succede il patatrack vuol dire che l'utente ha inserito un periodo sbagliato patatrack intendo si genera un'eccezione quindi try catch number format exception n quindi qua dentro dentro il try catch prova a convertire periodo uguale integer punto parse int periodo stringa se tutto va bene non entrerò mai in questo catch se per caso entro in questo catch dovrò dire all'utente guarda che è sbagliato il periodo non puoi andare avanti se non modifichi l'input txt result punto no come si chiama txt risultato in italiano giustamente txt risultato punto set text txt devi devi inserire un numero 1 o 2 per il periodo didattico questo messaggio di errore importantissimo c'è stato un errore non posso assolutamente andare avanti col metodo return finisce qui questo metodo non basta solo questo controllo però perché appunto se io in questo caso inserissi ad esempio 3 4 5 il programma non si arrabbierebbe però io so dalle specifiche del programma e da che cose contenuto nel database che 3 4 500 sono numeri che non vanno bene per il periodo didattico ok proviamo a inserire un controllo aggiuntivo quindi se if periodo minore di 1 or periodo maggiore di 2 ops di nuovo questo è un input non corretto copio esattamente il messaggio di prima però adesso va bene così ok questo è il controllo il controllo dell'input potremmo anche aggiungere controllo aggiuntivo per evitare problemi if txt periodo punto get text uguale uguale a null anche qui errore perché sinceramente non so cosa capiti quando facciamo una parsint di un null non so se dia questa eccezione o se ne dia un'altra quindi per non saperne leggere e scrivere metto il controllo qui e siamo a posto Francesco chiede professore ma fino a che punto dovremmo fare i controlli durante l'esame perché effettivamente ci sono molti controlli che si potrebbero fare per un qualsiasi input ma diciamo che non andiamo più in là di quello che abbiamo scritto adesso questo di solito c'è quasi sempre cioè c'è sempre quando l'input è numerico eventualmente ci può essere qualche controllo in più tipo di range come questo qui detto questo è molto più importante questo ok quindi se vi dimenticate di questo possiamo passare oltre se invece vi dimenticate di questo forse no Francesco sempre chiede per esempio anche rendere i pulsanti cliccabili o meno sì anche lì l'importante è che non si scatenino ecco la cosa importante è che quando noi proviamo il vostro programma se inseriamo un input sbagliato non si scateni un'eccezione cioè se vediamo del rosso nella console e il programma si pianta lì allora è un problema ok altrimenti se magari un pulsante è rimasto cliccabile quando non dovrebbe pazienza Alessandro chiede essendo un testo non sarebbe meglio fare un equals no perché quando il campo è nullo si controlla si controlla in questo modo con l'uguale uguale nulla direi sì ma solo nel caso in cui sia nullo comunque possiamo anche far così forse più pulito diciamo così catturiamo anche la null pointer exception npe in questo modo siamo più è più pulito il codice probabilmente se facciamo una parse di un null ci darà quasi sicuramente una null pointer exception Giorgia chiede dal momento che una stringa non dobbiamo fare uguale 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 stringa vuota nel controllo questo no perché quando farai una parse int di una stringa vuota questa ti darà una number format exception quindi ricadiamo già qua dentro e siamo siamo già a posto se però metti quel controllo in più va bene lo stesso va bene controllo dell'input fatto se arriviamo qui possiamo chiamare il nostro metodo list corso corsi uguale il nostro model this.model get corsi by periodo importiamo lista attenzione vedete qua ci sono due liste occhio è sempre java util e mai java avt altrimenti non mi funziona più niente importiamo anche cors alessandro chiede può un secondo mostrare model quando finisce il metodo non so se ho capito cosa intendi ma questo è il metodo che richiamiamo dal controller quindi richiama solo il metodo del DAO fa da passacarte verso il DAO quindi abbiamo questi corsi stampiamoli for corso c in corsi txt risultato punto append text in questo caso perché ne vogliamo inserire uno per riga e non vogliamo cancellare la riga prima quindi append text c punto to string più andiamo a capo slash n magari ogni volta che richiamiamo questo metodo facciamo una clear dxt risultato così siamo tranquilli e siamo pronti per fare la nostra prima prova del programma abbiamo aspettato addirittura un po' troppo per provare a lanciarlo per i miei gusti perché vi consiglio sempre di lavorare a piccoli passi faccio una piccola cosa la provo e poi vedo se funziona quindi un consiglio utile in questi casi potrebbe addirittura essere prima di collegare tutto il controller mi creo una classe test model che includa il main ora non la creo ma è un consiglio per le prossime volte e poi lancio i miei metodi del modello senza per forza passare dal dal controller li provo lì dentro in quel main lì e se funzionano poi li provo li aggancio all'interfaccia grafica però ora per semplicità siamo andati diretti all'interfaccia va bene lanciamo aiuto run as java application ecco qua la mia interfaccia se provo a stampare i corsi senza inserire un periodo beh sembra funzionare mi stampa il messaggio di errore se inserisco una stringa pure andiamo bene se inserisco tre anche proviamo a inserire il periodo didattico corretto uno oh ma incredibilmente tutto funziona al primo colpo vedete ho stampato uno per riga i miei corsi se trovo due cambiano i corsi e sono quelli del secondo periodo didattico domande su questo primo punto altrimenti possiamo passare al secondo Alessio chiede può ritornare un attimo su corso DAO certamente corso DAO eccolo qua questo è il metodo la stringa la lista risultato e poi eseguo per ogni riga mi creo un corso e lo aggiungo la mia lista allora ragioniamo sul secondo punto di oggi vediamo sulle specifiche un po' più complicato ci chiede di stampare rispondo prima una domanda Mario chiede quindi bisogna creare una classe DAO per ogni tabella del DB o ne basta una sola anche qui la mia è una convenzione per organizzare meglio il codice dopodiché se hai un unico DAO funziona tutto bene lo stesso avendo un DAO per tabella io trovo che sia logicamente più facile poi andare a trovare i metodi che ci interessano però non è non è obbligatorio ecco è un consiglio mio personale dicevo secondo punto di oggi stampare il numero di scritti ai corsi di un determinato periodo didattico ecco questa query è un pochino più complicata perché se andiamo nel diagramma di tali azioni non ce la caviamo più con una sola tabella dove stanno le informazioni che ci servono stanno sicuramente in queste due tabelle qui nella tabella iscrizione perché vogliamo stampare il numero di iscritti ma anche nella tabella corsi perché anche nella tabella corsi perché vogliamo gli iscritti a un determinato periodo didattico dove sta il periodo didattico nella tabella corso e quindi purtroppo abbiamo bisogno di due tabelle e ci sarà una join da fare andiamo sul nostro client e proviamo a farla qui allora select qualcuno ha un'idea su come farla abbiamo diverse possibilità però sicuramente serve un count asterisco come dice Mario fatemi solo leggere bene la specifica perché non vorrei sbagliarla ok sì qua effettivamente è scritta è scritta un po' male o mi sono spiegato male io dipende dai punti di vista non vogliamo un unico count ma vogliamo l'elenco dei corsi di un periodo didattico quindi lo stesso elenco che abbiamo qui rilancio il codice il programma vogliamo lo stesso elenco che abbiamo qui ma con a fianco il numero di iscritti quindi non il numero di iscritti totale ma per ogni corso il numero il numero di iscritti mi ero mi ero sbagliato a leggere la specifica quindi sicuramente il count però servirà lo stesso in ogni caso ci serviranno comunque le informazioni sul corso e quindi prima di tutto abbiamo detto ci servono entrambe le tabelle quindi corso c iscrizione i poi vogliamo appunto un elenco di corsi con a fianco il conteggio degli studenti quindi prima ci serviranno le informazioni nel corso direi tutte in questo caso c.codice virgola c.nome virgola c.crediti virgola c.c.pd non possiamo usare l'asterisco in questo caso perché abbiamo le due tabelle e non funzionerebbe come diceva Mario poi ci sarà un count contiamo quanti sono quanti studenti sono iscritti a un determinato corso count per il momento asterisco dovrebbe funzionare magari ridefiniamo anche questa variabile chiamiamola tot per esempio la parte importante beh abbiamo due tabelle servirà a fare la join quindi c.codice uguale i.codice poi abbiamo dei degli altri vincoli degli altri filtri beh abbiamo quello sul periodo didattico che deve essere quello inserito dall'utente quindi and c.pd uguale di nuovo in eclipse ci sarà il punto interrogativo qui proviamo con l'uno basta o avete qualche suggerimento di aggiunta Manuel giustamente suggerisce la group by usiamo una funzione di aggregazione ci va la group by per cosa raggruppiamo beh concettualmente raggruppiamo per corsi perché abbiamo detto vogliamo per ogni corso a fianco il numero di iscritti l'altra regola pratica che potete seguire è che tutto quello che ci sta prima di una funzione di aggregazione deve stare nel group by questa è la regola pratica diciamo così group by che di solito funziona copia proviamo a lanciarla run all e mi sembra ragionevole ho un insieme di righe in cui le prime quattro colonne mi rappresentano il corso come prima e l'ultima colonna che ho ridefinito tot mi dà il numero di studenti iscritti che va da 15 a 327 mi sembrano dei numeri abbastanza ragionevoli quindi dovrebbe essere corretta ottimo copio command c e torniamo su eclipse se non ci sono domande andiamo nel DAO usiamo un approccio bottom up partiamo dal DAO e poi risaliamo modello controller corso DAO o ragioniamo di nuovo che tipo di dati si scambieranno il DAO il nostro programma e il database secondo voi qui abbiamo ok Giovanni suggerisce giustamente una mappa abbiamo diverse possibilità potremmo potremmo addirittura pensare di crearci una classe stile corso ok che però al suo interno possegga un altro attributo tipo numero iscritti ok quindi mi andrei a creare una nuova classe qui dentro chiamandola corso con iscrizioni ad esempio che al suo interno abbia un attributo in più e in quel caso ritornerei una lista di oggetti di quella classe però visto che qui l'informazione che cambia è veramente poca cioè solo un numero il numero di iscritti come dice Giovanni è molto più semplice prevedere una mappa una mappa dove la chiave è il corso quindi riutilizziamo questa classe e il valore e il numero di iscritti anche l'altra opzione è valida però richiede più tempo perché richiede di creare una nuova classe e quindi più dispendiosa corso dao seguiamo direi l'idea della mappa public map corso integer ad esempio get iscritti by periodo non lo so è lo stesso come parametro sempre il periodo didattico importiamo map java utile non quella sotto e come dicevo il pattern è sempre molto simile quindi a me viene bene copiarmi il metodo di sopra ok lo incollo qua dentro e poi lo vado a modificare secondo le mie esigenze allora che cosa cambierà sicuramente la query va bene vado a riprendermela e la incollo facciam questa e la incollo solito lavoro di sistemazione tolgo gli slashenne e lascio lo spazio alla fine qui c'è già e tolgo l'uno e metto il punto interrogativo cambierà anche questo adesso non ritorniamo più una lista di corsi ma una mappa quindi map corso integer result new hash map di corso integer vedete l'importanza di aver ridefinito per la classe corso hash code equals importantissimo perché adesso la stiamo inserendo in una mappa quindi abbiamo fatto bene Matteo chiede per ordinare per numero di scritti avrei dovuto scrivere order by tot esatto sì Matteo chiede se vogliamo già ordinare tramite SQL in effetti tutto quello che facciamo fare SQL è tanto di guadagnato non dobbiamo più farlo via codice se mai ci servisse riordinare questi corsi order by tot lui ce li ordina in questo caso in modo ascendente se vogliamo in modo discendente aggiungiamo desk e lui li ordina già in automatico in modo discendente quindi abbiamo ridefinito la mappa connection rimane sempre lei il prepare statement lo creiamo sempre sì qua l'abbiamo chiamato periodo st.setint sempre uno periodo perché continuiamo ad avere un singolo parametro il nostro periodo result set execute query ok per ogni riga adesso cosa abbiamo non abbiamo solo più le informazioni relative al corso quindi il corso ce lo andiamo a creare lo stesso ma poi dobbiamo anche recuperare tot lo recuperiamo semplicemente con una rs.getint di tot integer n così rs.getint tot che è il nome che abbiamo usato per ridefinire il count asterisco vedete as tot non sarà più una add siamo con una mappa sarà una put put di c virgola n il resto rimane uguale rs.close st.close col.close ritorno la mia mappa domande siamo verso la fine ci manca solo più collegare questo metodo al model e poi al controllore quindi se vado nel mio model di nuovo avrò un metodo passacarte in questo caso mi ritornerà una mappa chiamiamolo nello stesso modo di questo metti scritti by periodo integra integra pd portiamo la mappa e facciamo la return return corso dao punto get iscritti by periodo pd in questo caso questi due metodi fanno veramente solo da passacarte potrà capitare che prima di richiamare i metodi del dao occorrerà fare qualche qualche istruzione in più dipende dipende dal programma in questo caso per come abbiamo sistemato il codice funziona funziona bene così siamo risaliti al modello risaliamo ancora di uno step andiamo nel controllore è qua il metodo che ci serve è questo qui numero studenti di nuovo abbiamo un controllo dell'input ma l'abbiamo già fatto lo possiamo facilmente copiare perché stiamo sempre parlando del periodo didattico quindi lo copio pari pari command c command d ok lo stesso controllo di prima se arriviamo qui il periodo didattico di nuovo è corretto e beh facciamoci dare la mappa che ci interessa corsi iscrizioni chiamiamola così corsi iscrizioni uguale this punto model punto get corsi get iscritti by periodo periodo giorgia chiede si può fare un metodo a parte per il controllo dell'input certamente sì anzi è un'ottima idea perché avanti di copiare incollare mille righe di codice quindi sì assolutamente magari un metodo booleano privato del controllore ad esempio tipo mettiamolo in fondo private non lo so c'è is valid a cui passi la tua stringa e che ritorna che ritorna vero o falso vero se l'input è valido falso se l'input non è valido e poi lo usi negli altri metodi ora non lo facciamo per una questione di tempo ma assolutamente è corretto farlo quindi importiamo map di nuovo java util non quella sopra e poi stampiamo è una mappa quindi come facciamo a stampare una mappa scorriamo ad esempio le chiavi e poi andiamo a stamparne il valore questo è un modo for le chiavi sono dei corsi corso c in corsi iscrizioni punto keyset quindi mi prendo tutte le chiavi le stampo perché devo anche stampare il corso quindi txt risultato punto append text c punto to string e poi vado a recuperarmi il valore quindi il numero di iscritti dalla mappa integer n uguale corsi iscrizioni punto get la mia chiave c quindi dalla mappa faccio la get di quale chiave del corso che sto attualmente scorrendo in questo ciclo in questo giro del ciclo for e va bene poi farò txt risultato punto append text magari diamogli una tabulazione slash t più n più andiamo a capo quindi più slash lo proviamo lancio saldiamo tutto porto di qua di nuovo proviamo un attimo l'input si se non inserisco niente se inserisco una stringa sembra funzionare inseriamo il periodo didattico 1 stampiamo si è stampato un po' da schifo ma direi che le informazioni ci sono il corso con il numero di iscritti il corso con il numero di iscritti e via via gli altri proviamo con il secondo anche qui direi che direi che ci siamo non sono ordinati ma appunto potete ordinarli beh direi anche direttamente dalla query oppure via via codice io direi che possiamo terminare qui l'esercizio per oggi ripeto la prossima volta vedremo questa seconda riga del programma non so se ci sono domande altrimenti possiamo fermarci qui mancano 5 minuti professore io avrei una domanda un po' diciamo generica prego allora per quanto riguarda l'MVC sostanzialmente il controller se ad esempio ricevi una stringa mi faccio di riferimento diciamo ai laboratori deve essere il controller ad esempio a separare la stringa oppure in varie parole ad esempio oppure la passa al modello deve essere il modello a provvedere a fare questa cosa beh dipende un po' se è un'operazione che è inerente alla logica applicativa ok sarebbe meglio la facesse il modello cioè intanto che controllare l'input che arriva dall'interfaccia grafica ad esempio fare una parsint dell'input dell'utente può anche aver senso lasciarla qui perché è un'informazione che arriva direttamente dall'interfaccia grafica ma quando si tratta di dividere non so se ho capito bene ma dividere una stringa secondo un determinato criterio e questo criterio fa parte della logica applicativa a quel punto ha senso che la faccia il modello va bene sì sì grazie risposto grazie prego altre domande Alessio può tornare sul corso DAO certo Matteo chiede può fare il commit certo che lo faccio lo faccio subito magari lo faccio in un branch separato quindi così abbiamo il progetto base faccio switch to lo facciamo insieme così vi faccio vedere switch to new branch soluzione configuriamo finish e poi faccio team commit aggiungiamo tutti i file con la doppia più soluzione prima parte commit push new push così andiamo a vedere ok dovrebbe essere a posto andiamo a vedere su online vi faccio vedere ora dove potete trovare la soluzione qui abbiamo sempre il progetto base ma vedete che abbiamo due branch quindi se clicco qui posso andare su quello che abbiamo fatto oggi sul branch soluzione mentre il branch master continua a contenere solo il progetto base un'altra domanda non serve ordinare via query visto che poi usiamo hash map giusto esatto era quello che stavo cercando di dire prima che volevo dire prima ma poi non ho detto è inutile ordinare la query è inutile ordinare dalla query se poi i dati li inseriamo in un hash map che non mantiene il concetto di ordinamento quindi o ordiniamo nella query ma poi usiamo delle strutture dati che mantengano l'ordinamento tipo delle liste oppure dobbiamo passare per forza dal codice quindi recuperare gli elementi della hash map metterli in una lista e ordinare ad esempio oppure usare una tree map che mantiene l'ordinamento Alessandro slash tia cosa serviva tabulazione come ha risposto Francesco Manuel diceva potevamo usare una link dash map sì altra soluzione possibile sicuramente Beatrice io ho avuto problemi a caricare il database o Windows non riesco a visualizzare la cartella come lei non so risponderti così al volo eventualmente contattami dopo la lezione così cerchiamo di sistemare il problema Celeste anche io mi sono accorta che come Beatrice non mi fa il collegamento non so di che collegamento parli non capisco di che collegamento parli parli sempre di problemi con il database se è così magari scrivetemi che dice che non riconosce il database magari scrivetemi dopo la lezione che cerchiamo di sistemare il problema magari facciamo una chiamata zoom mi condividete lo schermo così vedo vedo il problema Loris chiede è possibile riforncare questo nuovo branch senza eliminare la repository che ho creato all'inizio della lezione questa è una bella domanda non ci ho mai provato sinceramente non vorrei risponderti con delle cavolate perché però secondo me quando fai il fork fai il fork dell'intero progetto inclusi tutti i branch quindi non so se tu riesco a fare una cosa del genere ma prendi questa cosa con le molle perché non l'ho mai fatto bisognerebbe andare a vedere la documentazione di git Antonio c'è una SQL exception non suitable driver found for ok non suitable driver il driver dovrebbe esserci nella nella libreria nelle librerie che sono già linkate al progetto mi viene in mente provo a controllare bene la stringa di connessione andiamo su db connect assicurati che la stringa sia corretta dbc mysql localhost e che anche lo username e la password siano corretti cioè esatto ah sì è jdbc non jbdc hai sbagliato scrivere questo va bene direi che possiamo interrompere la registrazione stop recording grazie a tutti ci vediamo